Meglio partire informati, è questo il consiglio rivolto dal Centro Europeo Consumatori agli Altoatesini in procinto di partire per le tanto attese vacanze. Proprio per evitare spiacevoli disguidi e dare i giusti consigli, evitando così il più possibile di farsi rovinare le vacanze, il CEC offre un servizio di assistenza per viaggiatori che include informazioni e aiuto nella soluzione dei reclami legati al turismo. Nel 2010 la rete dei centri europei consumatori ha aiutato e assistito i consumatori gratuitamente in più di 71.000 casi, mentre a livello Altoatesino le richieste pervenute sono state 4.300 ed hanno riguardato diverse tematiche. La prima domanda è, ho prenotato, non posso partire, ho diritto a ricevere un rimborso? Perché nel settore del turismo una volta prenotato in realtà il consumatore si obbliga a pagare il prezzo e se non riesce a partire per il viaggio dovrebbe tutelarsi con un'assicurazione per pagare poi le penali di recesso. L'altra domanda riguarda gli acquisti di viaggi, prenotazioni alberghiere e cose di questo tipo fatte in internet, perché il clic è molto facile, è una cosa molto rapida e non ci si pensa molto. E quindi molto spesso capita di premere un tasto, di cliccare su prenota ora, che in realtà non è una richiesta di informazioni, cioè è già una prenotazione vera e propria, anche se non ho pagato nulla e anche se si tratta solo di un clic. Il 21 giugno prossimo entrerà in vigore il nuovo codice del turismo, nel quale verrà attuato il danno da vacanza rovinata. Per avere consigli ed informazioni basta rivolgersi al check di via Brennero a Bolzano oppure telefonare dal lunedì al venerdì al numero 0471 98 09 39. Eviterete così di vedervi rovinare le tanto agognate vacanze. Grazie.